giovedì 2 giugno buona festa della repubblica a tutti cari bianconeri che mi siete qui sul canale il video di quest'oggi dal titolo come vedete di magia a tutti i kostic uso ovviamente un gioco di parole che andrò a sviluppare ma non solo perché ci sono novità anche sul fronte culibali detto questo prima di proseguire vi invito a scaricare l'applicazione one football di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per raggiungarvi lo scarico un'applicazione che trovate disponibile sia sul play store che sull'apple store leggera gratuita vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore ed avere così tutte le notizie che possono riguardarla ma proprio tutte ma anche tutte le notizie relative al mondo del calcio mi raccomando scaricate one football veniamo al di magia a tutti i kostic beh lo abbiamo visto ieri sera nella finalissima tra italia e argentina giocatore 34enne classe 1988 ancora un giocatore dalla classe cristallina dall'eleganza inenarrabile e veramente da dal gusto veramente vederlo vederlo giocare vi ho raccontato ieri che praticamente la situazione paul pogba è in dirittura d'arrivo per quello che mi risulta chiuso già da diverso tempo ma ci sono degli step che vanno rispettati intanto il comunicato ufficiale del match to united che ringrazia paul pogba e annuncia ovviamente il divorzio il ringraziamento dello stesso paul pogba che ringrazia con delle righe importanti sul suo profilo social instagram il magister united si attende ora da un momento all'altro l'arrivo della firma e quindi dell'annuncio ufficiale a chi mi ha chiesto ma quando sarà ufficiale pogba beh dobbiamo soltanto attendere io personalmente non sono a conoscenza delle strategie comunicative delle strategie societarie da questo punto di vista l'unica cosa di cui sono a conoscenza è che paul pogba ha accettato la juventus già da diverso tempo ha deciso di sposare nuovamente il progetto di essere messo al centro il progetto tecnico bianconero allettato dalla corte irrefrenabile di massimiliano allegri ma anche quella di pavel nedved ma veniamo a di magia di magia giocatore ripeto classe 88 che ha fatto storcere il naso almeno fino a ieri diciamo a metà della tifoseria perché c'era una sorta di divisione e consentitemi di fare il punto su questa situazione di di maria è chiaro ed evidente che parlando da amante del calcio non si può non apprezzare ciò che di maria è ancora oggi in grado di fare uno degli esterni più forti del mondo giocatore ripeto dalla classe dall'eleganza dalle qualità tecniche davvero entusiasmanti e quindi da amante del calcio di maria anche solo un mese poterlo vedere anche solo una partita poterlo vedere giocare allo stadio dentro alla casa bianconera con la maglia della juventus però ecco siccome andiamo così un po a raccontare il mondo juve quello che è l'obiettivo della juventus di ricostruirsi di ripartire di tornare a formare un ciclo vincente è evidente che non si possa non considerare anche questo lato e allora in maniera razionale porto il mio pensiero a dirvi di maria sì ma solo alle condizioni della juve le condizioni della juve ancora oggi mi risultano essere almeno due anni con la maglia della juve o meglio due anni con la maglia della juve la juve non pretende un anno di più la juve pretende un biennale o eventualmente un uno più uno da esercitare ma appunto per poter usufruire del crescito crescita appunto primo ma non solo anche per non essere utilizzata come diciamo soluzione per mantenersi in forma e presentarsi al meglio ai mondiali in catà 2022 col rischio un imprenditore vero deve correre rischi e vediamo se la juventus da questo punto di vista sarà più imprenditrice disposta a correre il rischio anche di un solo anno di contratto oppure sarà sarà più un'azienda diciamo da questo punto di vista oculata nella scelta di proporre un contratto ad un giocatore comunque entusiasmante come anche il di maria io personalmente ripeto da amante del calcio di maria comunque da chi racconta da chi analizza e da chi cerca di avere una visione che vada oltre il semplice gusto di vedere giocare al pallone dico la juventus non deve farsi prendere per i capelli la juventus deve mettersi nella condizione di essere per di maria un trampolino per i mondiali ma deve essere anche colei che vuole da questo giocatore che vuole fare un grande mondiale una squadra che vuole usufruire delle sue prestazioni sportive che la portino oltre il solo anno di contratto che la portino a vivere un'avventura almeno di un paio d'anni con le qualità che di maria ha dimostrato ancora oggi di poter avere perché in tanti storcono il naso sugli anni in tanti lo ritenevano bollito in tanti pensavano fosse un giocatore che dà la tenuta fisica limitata di maria ieri vedendolo giocare contro l'italia ha corso perlomeno nella partita contro l'italia quanto tutta la juventus nel girone di ritorno tutti i giocatori messi insieme parafrasando chiaramente facendo una mezza battuta ecco è un giocatore che sicuramente vorrei subito alla juventus la speranza è che dall'incontro tenutosi ieri a londra non è emerso granché ho cercato anche ieri di ottenere qualche input insieme a mirko di natale a giovanni albanese ancora non transitavano notizie né in un senso né nell'altro può essere positivo può essere negativo io credo che quando c'è questo alone di silenzio sia positivo la juve sta lavorando l'entourage dà ancora la priorità alla juventus di maria dà ancora la priorità alla juventus si cerca di convincere il giocatore a sposare un biennale e lui cerca di convincere la juventus di avvalirsi delle sue prestazioni da professionista qual è per un solo anno perché poi vuol tornare evidentemente in argentina vediamo se nei prossimi giorni scatterà la cosiddetta fumata bianca si lavora ancora per convincere il ragazzo a consentire l'eventus decreto crescita e due anni con la maglia bianconera ma perché di magia tutti i kostic perché su kostic confermo quanto già sottolineato è un giocatore proposto alla juve un giocatore che la juve tiene monitorato ne ha già parlato con l'agente luci per avere diciamo eventuale disponibilità per capire se ci possono essere margine di trattativa con l'hytra tutto è possibile a determinate cifre che non sono cifre esorbitanti il ragazzo va in scadenza 30 giugno 2023 29 anni giocatore che i più forse ancora forse non conoscono forse storcono il naso perché lo sentono alla ribalta ora perché ha costato la juventus o eventualmente nella scorsa stagione perché ha costato a inter e a lazio ma è un giocatore che negli ultimi anni è tra i migliori assistment d'europa la juve cerca proprio quello e quindi e pensando a kostice quale complemento di una rosa che deve essere rafforzata che deve consentire a vlaovic di ricevere assist per metterla dentro considerato il rientro di chiesa da un lungo infortunio la juve coprirebbe sicuramente una bella falla inserendo un giocatore di qualità un giocatore che può dare il suo contributo non un titolarissimo ma un giocatore che può fare al caso dei bianconeri non c'è offerta ufficiale non ci sono ancora trattative in corso ma è un giocatore che sicuramente la juventus sta tenendo in debita considerazione punto culibali lo dicevo ieri nel corso della puntata ultima di euro jb saluto tutti quanti coloro che sono stati compagni di avventura con sottoscritto ringrazio guido tolomai per l'opportunità ad atami e per il bellissimo format che ha messo in piedi proprio ieri raccontavo di aver ricevuto alcune informazioni fronte culibali ma non solo e allora le cito molto brevemente velocemente la juventus lavora sul difensore centrale allegri il primo nome che ha fatto in cima alla lista è proprio quello di culibali perché ha nasato che c'è la possibilità che il napoli non lasci partire un giocatore che va in scadenza 30 giugno 2023 ed è un giocatore che ci sposerebbe perfettamente con matais del lite formerebbe formerebbe una coppia davvero sensazionale c'è ovviamente un problemino trattare con dell'aurentis alle cifre che chiede dell'aurentis è improponibile e se fossi una juventus non lo farei ben conscio del fatto che però culibali può essere un'opportunità e se ci sarà l'opportunità va assolutamente valutata perché un giocatore che ancora può dire altamente la sua qual è il punto il punto è che culibali è stato messo sul mercato da dell'aurentis che non si vuole assolutamente prendere la responsabilità di cederlo lui alla juventus ha proposto un rinnovo molto a ribasso circa 50 per cento rispetto all'attuale ingaggio che aveva culibali che ovviamente non può accettare e quindi mette nelle condizioni il giocatore di assumersi la responsabilità di chiedere l'accessione di poter andare via ma culibali potrebbe anche decidere di andare a scadenza quindi parametro zero a quel punto la juve sicuramente più di un pensiero glielo farà diversamente dell'aurentis ha fissato il prezzo ha sparato alto spera nell'arrivo di qualche club europeo non italiano europeo che possa avere moneta sonante da ricoprire le casse degli azzurri e attenzione perché il celsi sembra particolarmente interessato a calidù culibali in chiusura per la juventus ovviamente non si chiudono le porte di un rinforzo sempre nella zona centro-sinistra della difesa e allora mi è stato riferito è tutto quanto da vedere se potrà corrispondere a realtà mi è stato riferito che tra i giocatori proposti ci sarebbe stefan devrai in uscita dall'inter il sogno della juventus mi viene detto essere bastoni giocatori peraltro io sponsorizzo perché mi piace davvero tantissimo abituato a giocare nella difesa 3 secondo me fortissimo nella difesa 3 da valutare certamente nella difesa 4 ma è molto giovane è italiano ed è un giocatore che gode di un grande sponsor all'interno della juventus che è giorgio chiellini che ha salutato la nazionale ieri che tornerà da dirigente alla juventus dopo un'esperienza ai los angeles e quindi attenzione ma bastoni ha un costo di cartellino troppo elevato e allora potrebbe essere o lui in uscita e quindi non se ne parla più altrimenti potrebbe essere interessante per la juve o perlomeno è stato proposto alla juve così mi viene riferito stefan devrai che giocherebbe con matais de litte capace di giocare sia in una difesa 3 sia in una difesa a 4 giocatore che ha quell'esperienza che cerca massimiliano allegri nome nuovo ne girano tanti ne vengono proposti tanti non sono trattative in corso questo va detto per onestà intellettuale e essendo però prossimi al calcio mercato o sostanzialmente già in clima calcio mercato alla juventus vengono proposti tanti giocatori perché si sa che la juve cerca un centrale di difesa un terzino sinistro un attaccante anzi due attaccanti un altro centrocampista oltre al polpo che a breve sarà bianco nero ditemi la vostra io vi saluto vi auguro un buon proseguimento di giornata fino alla fine forza juve mi raccomando iscrivetevi al canale youtube bastionate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i contenuti così potrete commentare i prossimi video mettete like al video ciao